Abbiamo collegata con noi in diretta l'assessora Flavia Marzano, assessora Roma Semplice. Benvenuta di nuovo qui su Radio Roma Capitale. Grazie, buongiorno a voi. Allora, intanto andiamo a parlare di un argomento a cui le tiene, ma ci teniamo anche noi perché lo troviamo estremamente, diciamo, importante e interessante, anche perché la città delle donne va in onda già da due anni, siamo l'unica radio che parliamo di donne ogni giorno da due anni. Ebbene, declinare al femminile l'agenda digitale di Roma Capitale attraverso la raccolta online di proposte utili a ridefinire in un'ottica di genere le azioni strategiche per il Campidoglio. Ecco, un'iniziativa come è nata e soprattutto siete riusciti ad avere, a raccogliere già delle adesioni, assessora Flavia Marzano. Sì, allora, è nata così. L'agenda digitale l'abbiamo fatta, l'abbiamo approvata in giunta a fine febbraio. E nel cosiddetto mese dell'estrem, che poi vi dirò che cos'è, che partiva dall'8 marzo all'8 aprile, abbiamo deciso di declinarlo anche in ottica di genere. Il mese dell'estrem è un mese definito per il secondo anno dal Ministero dell'Innovazione dell'Università della Ricerca per supportare, spingere le ragazze a fare più facoltà scientifiche di quanto oggi non facciano. E in quel contesto abbiamo detto, ok, perché non provare a declinare in ottica di genere l'agenda digitale? L'agenda digitale è uno strumento di indirizzo, se vogliamo, ma anche con interventi molto chiari e concreti, misurabili soprattutto, che abbiamo definito in maniera partecipata. declinare di genere significa di fatto vedere laddove ci sono degli indicatori che abbiamo segnalato, degli interventi che dobbiamo fare, se come ha senso prevederli anche declinati così. Abbiamo avuto, per rispondere alla sua domanda sui numeri, più di 30 contributi che sono pervenuti, era possibile votare, hanno ricevuto 280 voti, 40 commenti e li abbiamo illustrati l'altro giorno in Campidoglio proprio con le entità che avevano partecipato alla consultazione, fossero singole persone o associazioni. Le idee ne sono venute diverse, ovviamente alcune immediatamente attuabili e inseribili, per esempio declinare in ottica di genere i dati che noi abbiamo in formato aperto ed è possibile farlo, visto che sui dati aperti stiamo lavorando, sarà importante che i dati siano declinati in ottica di genere. Provo a fare un esempio per sapere che il, adesso dico un numero a caso e abbia pazienza, ma che il 37,2% dei giovani sotto i 30 anni è disoccupato, è un'informazione ed è un dato importante. Sapere che di questa cifra l'X% sono uomini e l'Y% sono donne è un altro dato, perché chi deve definire le politiche e fare le politiche per il lavoro è un'informazione in più. Quindi muoversi senza dimenticarsi che siamo il 51% della popolazione. Un'altra bella idea che ci è piaciuta molto è di realizzare un'anagrafe dell'associazionismo femminile. A Roma ce ne sono veramente tantissime, se riusciamo a metterle tutte in un unico punto, quantomeno come link, in maniera che uno sappia chi c'è, che cosa fa, perché, è molto utile. Quindi veramente le idee sono tante, percorsi formativi di facilitazione digitale, sono altre idee che sono venute e sono molto interessanti anche queste, perché sappiamo purtroppo che il divario digitale è un problema del paese non indifferente rispetto agli altri paesi europei e purtroppo il divario digitale non è soltanto mancanza di connettività, ma è anche un problema socio-economico-culturale e ai noi anche di genere. E quindi su questo ovviamente vogliamo intervenire. Ecco, Assessora, un'altra via importante, iniziativa importante che lei sta portando avanti e che è un po' l'argomento su cui si fonda anche il Movimento 5 Stelle, la propria campagna elettorale, su cui ha basato la propria campagna elettorale la sindaca Virginia Raggi, parlo della partecipazione dei cittadini alle scelte del Campidoglio. Ecco, questo lo si può fare perché oggi, grazie al web, in pratica si possono attivare iniziative e con un clic entrare o dire il proprio parere. Ecco, cosa si sta facendo per far questo, Assessora Marzano? Sì, beh, una è proprio quella che stavamo dicendo poco fa, cioè l'agenda digitale noi l'abbiamo fatta in casa, diciamo, poi ci siamo confrontati di persona, con persone che abbiamo incontrato, associazioni, imprese, eccetera. Poi l'abbiamo messa online per un mese, per cui chiunque poteva dire la sua, quindi aggiungere, correggere, emendare. E anche l'agenda digitale di genere l'abbiamo fatta incontrando le persone, ma anche questa...